Ciao artigiano, tempo fa se ti ricordi ho comprato degli estrattori per viti danneggiate. Quando è che capita di danneggiare l'impronta sulla testa della vite? Quando non si mantiene l'inserto perfettamente perpendicolare alla stessa. Capita di danneggiare l'impronta anche se si utilizza l'inserto non idoneo. Metterò delle viti in un pezzo di frassino senza fare il preforo e poi con una punta per metallo andrò a rovinare l'impronta della vite proprio per vedere se con questi estrattori da 5-6 euro riesco a estrarli. Allora metto qualche vite. Adesso con trapano e inserto andrò a rovinare apposta l'impronta della vite. Comunque l'inserto è buono, vedo che dura. Adesso seguendo questa tabella che c'è all'interno della scatola l'unica istruzione che ci sono presenti dice che per una vite da 6 mm devo usare il pezzo numero 2 che sarebbe questo. L'estrattore ha due parti, da una parte fuori e dall'altra aggancia la vite per tirarla fuori. Come da istruzione bisogna utilizzare prima questa parte. Si utilizza in rotazione contraria quindi a svitare. Adesso ruoto questo, metto la parte che dovrà agganciare la vite per estrarla. Sempre in rotazione contraria. E me l'ha preso solo per un po'. Non fa gran che è presa. Come appena visto la parte che deve agganciare la vite per toglierla, per svitarla, non ce l'ha fatta bene ad agganciare. Questo perché è una cosa che avevo già notato. L'altra parte, quella che è fora, fora fino a un certo punto. Non riesce ad andare al di sotto dell'impronta. Per andare al di sotto dell'impronta bisogna utilizzare una punta per metallo. Questo te lo dico perché l'ho già provato. Conviene terminare il lavoro con la pinza perché non aggancia più l'estrattore. Ecco qua. Adesso rovino questa impronta. Poi anziché utilizzare la punta che c'è su una delle due estremità dell'estrattore, utilizzerò direttamente una punta per metallo. Monto una punta da 3,5 per metalli. E buco sull'impronta della vite. Rimuovo la punta e metto l'estrattore che ho utilizzato in precedenza. Sempre con rotazione contraria, quindi a svitare. Ok, questo non prende. Provo questo che è un po' più grande. Beh, ha fatto il suo lavoro. È appena appena più grande. Come appena visto stavo utilizzando un estrattore di una misura, non andava bene, ho cambiato semplicemente estrattore mettendolo di un diametro leggermente più grande e ha funzionato. Sono riuscito a estrarre la vite. Il problema comunque rimane sempre l'altra estremità di questa tipologia di estrattori perché la punta che ha non è in grado di scendere abbastanza in profondità per far prendere bene l'estrattore. Almeno non in queste prove che sto facendo io. Faccio ancora un tentativo, voglio provare sull'inserto delle viti Torx. La prima cosa che faccio è rovino l'impronta con una punta per metalli. Adesso riprovo a utilizzare la punta che c'è su una delle due estremità dell'estrattore. Sempre in rotazione contraria, quindi a svitare. Come immaginavo non sono riuscito a scendere più di tanto con questa punta. Comunque proverò ugualmente a utilizzare l'estremità dove c'è l'estrattore vero e proprio. Sempre in rotazione contraria. E infatti non fa nessuna presa. Non si riesce a estrarre. Riprovo a usare la punta. Ancora niente. Con nessuno degli estrattori sono riuscito a tirare fuori questa vite, nonostante abbia anche forato con una punta per metalli. Faccio un'altra prova sulla vite qua a fianco che era uguale a questa, ovvero sempre con l'inserto Torx. Stavolta anziché rovinare l'inserto con una punta per metalli, utilizzerò la stessa punta che c'è presente qui sull'estrattore. Sempre in rotazione contraria, rotazione inversa. Non sta facendo praticamente nulla. Giro il pezzo, metto l'estrattore. Sempre in rotazione inversa. Provo subito quello più grande. Quello più grande non entra, quindi provo ad allargare il foro con la sua stessa punta. E non serve proprio a nulla. Artigiano che dire, mi viene quasi da pensare che siano soggetta questi estrattori per viti rovinate, perché alla prima funzionano, alla seconda un po', alla terza già non funzionano più. Prima di fare questo video ovviamente li avevo già provati, in alcuni casi aveva funzionato, in altri no. Infatti se vado a notare in tutti e quattro i pezzi, la parte che deve, la punta che deve forare per far entrare l'estrattore vero e proprio, è già rovinata. In tutti e quattro. Riesce a eliminare il materiale giusto sino alla profondità dell'impronta stessa. Non riesce ad andare oltre la profondità dell'impronta presente sulla testa della vite. Quindi le conclusioni sono due. O sono io che non ho capito come funzionano, nonostante sto seguendo alla lettera le istruzioni riportate qui, nel cartoncino all'interno della scatolina, oppure sono questi affari qua che non valgono a nulla. C'è anche da dire però che costano 6 euro. All'artigiano per quanto riguarda questi estrattori, lascio a te le conclusioni qui sotto nei commenti, fammi sapere. Può anche darsi che sto sbagliando io il modo in cui li utilizzo. Per quanto riguarda il prossimo video, ti do appuntamento a domenica, mi raccomando non mancare. Non mi resta che salutarti, stammi bene, ciao artigiano! Ciao! 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 Ciao!